Il countdown è iniziato per l'appuntamento di domani alle 11 con la guerra dei colori. La battaglia più fresca e colorata dell'estate, con la presenza anche del sindaco Roberto Monaco e dell'amministrazione. Si svolgerà lungo le strade del centro storico e le sponde del fiume Tenza. Vincerà ovviamente solo il divertimento. È semplicemente una battaglia ludica, che si combatte senza armi, o meglio che le armi più letali sono delle semplici spugne bagnate e colorate, ovviamente con colori rigorosamente atossici. In tinte ed in grandi tinozze, dopodiché si usano per colpire chiunque sia a tiro. Ci si posiziona su una delle sponde del fiume Tenza e con le spugne caricate dall'acqua colorata delle tinozze, si colpiscono gli avversari della sponda opposta, o almeno ci si prova. Il nemico è sicuramente l'indifferenza, che si sconfigge solo con la partecipazione, la gioia, l'allegria, la voglia di divertirsi e tanti colori.